let's go bitch sono in compagnia di colga che è qui a casa mia a nerdare in questo periodo la gaming house la powerhouse come sempre siamo qui per aprire ben 5.000 cod point e vedere cosa troveremo nei lanci di rifornimento con il mio account e far rosicare colga che cerca accessori e cose fighe per la m8 più che altro se non trovi niente qua non trovo proprio niente cioè 5.000 punti a 200 costa si si incazza in freddo ci possa spectre ci possa tutte quelle ultrarie ovvio si aprono solo quelle rare trovi roba molto più fico il gorgon questo lo userò durante le qualifiche cazzo è il caricatore aumentato della legale bello come dicevo io vabbè figlio vediamo se trova qualcosa per l'anno quant'è la testa si vuoi pulire il segreto è in segreto leo mi dispiace in segreto tutte chi sto trovando tutti i gesti in continuazione che io non voglio un po' mi sta dando cripto chiavi a bomba sto gioco comunque finalmente quelli rari ti danno un sacco di roba guarda che poi dopo te li rivendi i doppioni quindi su altri cazzo e quindi su altre cazzo c'è praticamente sto stavo per i roba buffo però però è niente che è carino il mirino figa no è bellissima è bellissima però io qualcosa tipo per i personaggi che uso io tipo il tempest che ne so va bene per farne brutta dove non fa carina inferno e sports va bene vabbè lo sono oh il dingo è più alto è più o leggenda ma eh questo è epico epico sarà come l'animazione sì si guarda il dragon che palle si è tradotto il dragon che palle però non mi frega niente di sta roba io ho qualcosa di decente tipo per l'M8 tanto amore bello eh questo è usabilissimo questo ce l'ho anch'io oh quello è il knight però ce l'hai nel lanciafiamme si no quello è il coso del ruin quello è il coso ma dove hai comprati sti cosi sul PSN si si sul PSN non ho messi ora con l'aggiornamento il mirino di merda finalmente ah hanno fatto l'aggiornamento questa cosa si questa cazzana non l'ho capito oh luce luce non la vediamo duce dove le vedi tutte animatica duce apriamo apriamo passo indietro c'è sto trovando oh che bello è eh no ma che bello è il CUDA poi verso il poco lo potresti usare eh ogni tanto ce l'ho uso quindi questo qua se capita l'M8 è meglio però ehm magari è il dino sa il dino è il gladiatore che merda però siamo a trovare quanti c'è? 5.000? mh tra 2.000 qualcosa oh caricatore aumentato però questo pubblica magari in pubblica vabbè c'è bustata che qualcosa di diverso il caricatore è negro non diciamo queste cose ci sarà il dito qua oh inutile pensavo che era quella cosa nuova si tipo un cacciavite oh sono chiacchiere ma tutta roba per il dragon testa taglio quello che l'ho tutto per il dragon perchè a quanto pare il gioco ti sto dicendo quindi usare il cerchino questo è bellissimo questa la usi pure cazzo questa l'auto serbico il bonus il bonus 131 punti cioè io sto aprendo roba comunque comunque le rare si trovano un botto di roba prima non era così banana cos'è? cos'è sta cosa? un cimbia vabbè la metti questa divaggio immediatamente dara banana merda mhm vabbè niente perché il primo riesce male e gli altri hanno tutti perso a poco si si oh questa pure è bella questa c'è posta, tanto la car si usa ogni tanto, però io sono più la MR6 io l'ho messa perchè ci slide in faccia alle persone oh! i vmp che andano lunga a felice! fuggi pure a feeble vabbè vabbè che noi abbiamo altre casse da primo conti oh! che palle tutto per il dragon! ma che è? cioè il gioco mi sta dicendo che devi avere il nuovo fall devi usare vediamo un po' la cosa di me oh! 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 questa è bella! questa è carina! ce l'avevo sulla pistola questa è carina ce l'avevo su io sulla carco della misa però qualcosa di più... aiuto gioia, dito dito ma è il momento di aprire i casi hai finito? si ma è il momento di aprire i casi bruciano obbligati il momento di aprirne altri vediamo di trovare qualcosa di più decente 193 dai! più agli normali? no, più questi se trovavi roba ho mai visto tanta roba altruata non mi è mai capitato così tanta roba sinceramente merda ooooooooo no pensavo che era tipo qualcosa del pugno carina questa di giro ho detto oh il pugno il tirapugni ho detto i knuckles oh! che palle che cazzo? oh! senziatore ma che palle ci hai trovato i caricatori il senziatore tutto da pub star proprio ancora vabbè questo è doppio bruci 7 per il tuo chiavi bonus ma capito in pratica tu compri la cassa da 30 e ti le danno 7 indietro eh più o meno 7 non sono pure 10 quindi qua 5 ma poi tanto devo bruciare pure i duplicati perchè? perchè ti sta dicendo che devi sparare lì per bambini? voglia perchè ti sta dicendo che devi sparare lì per bambini? mi sta dicendo che devo cambiare, devo fare la pub star ce l'ho già ma perchè? ma perchè? ma perchè? almeno qualcosa che uso nel competitive invece oh carina questa è carina da merba questi gesti ho trovato mille gesti e non so cosa ho trovato ce l'ho trovato sicuro qualcosa di tipissima oh! puoi finire? brucia o bruciata apri questo ah vero non ho bruciato non ho bruciato ma mi è tanto bruciato 30 e vabbè e finiamo qua precisamente e andiamo dai arriviamo a zero preciso e andiamo sempre sto dito uomo curzuto vabbè 10? è buono dai ne apriamo un'altra non la volevo fermare è una droga sta cosa merda vabbè l'ho fatto come diretta e vinci cioè comunque allora ho trovato tipo delle cose tipo assurde per questi tipo fammi del gesto adesso lo sbloccavo ehm non me lo fa ah eccolo carina knight tutta scuola carina knight tutta scuola carina knight non c'ho un cazzo i gesti qua che c'ho niente non hai trovato niente questo niente vabbè andiamo a vedere sugli altri che ho trovato 7 ce l'ho i punti sblocco madonna 7 che cazzo tutti i gesti per questo punto questo si ma che cazzo è tipo che non male vi faccio il culo come at me bro come at me fatevi sotto non male ma pestone no sta schiacciando uno scarapaggio dito no questo è carino eh vabbè sono più forte questo c'è il piuma che devo fa cari oh carino questo arca questo gesto vai a vedere i gesti i gesti bella partita saluto gioia che è uh bello ma che cazzo fa uh vabbè raga ma che fa è il più più che abbiamo visto questo questo c'ha proprio la voglia di vive vanto aha vabbè sto ridendo fai schifo un video no vabbè no questo è bellissimo questo si era broken ti ricordi che lo faceva si si oddio ma è bellissimo questo lo mettilo subito no questo c'è proprio questo questo pure a fine partita te scrivo cazzo hai usato questo tanto no sbagliato tasto come che c'è sta tanto amore mmm vabbè questo si è carino una merda esecuzione che ha quello che sta tagliando qua quanti c'era i muscoli vabbè merda vido campione che è guardate c'ha la cintura di wrestling c'ha la cintura di granate questa vabbè stai risata che va a essere pensato qualcosa di me qualcosa per mamma mia è brutta questo è buono carino mettiamola subito poi che c'hai questo 54 di mortale ridicoli carino questo questo è per donne solo biacchiere denaro sonata questo pure youtube money youtube money youtube money questo perché ce l'ho pure io è carino allora vediamo un pochino questo procio che c'avrò gioia questo è quello di prima ah quello di prima vabbè metto ma guarda come impazzisce carino carino questa vabbè niente di che muscoli denaro sonata è rigido mettilo nooo ecco quando vinci la mappa e fai 40 lodami ecco quando ne fai 50 vediamo che cazzo ho trovato correndo questo però vabbè lo mettiamo questi non li posso vedere quindi andiamo in partite personalizzate specialisti per robottino la danza non c'è un cazzo non ho trovato niente non ci credo qui manco no non ci credo no devo andare a vedere così singolarmente devo andare a vedere tipo petto oh calmo alza pure la gamba calmo ma che vuoi fare robottino con i muscoli ma vedi però il bici ce l'ha ma che c'entra il robottino non ce l'ha i muscoli però vabbè perché non c'è un cazzo vediamo questo questo ci avrà tipo il mondo no di là di là non c'ho un cazzo ma che cazzo si fa il fatto è che non sapete che sarei già morti pace dopo che hai ammazzato 100 persone dopo che hai vinto dopo che hai gracciato peace dopo che hai gracciato fai peace belchino ah si questa è è qui quando vinci 1v1 per chi gli stai scavato la tomba no guarda lo metto pure il caver dentro e poi lo chiude nooo con la zampetta ecco l'acqua per questo lo fa bello questo questa è la cosa più figa di tutto questo è troppo rosso vediamo l'ultimo va il purifier qui hai trovato la faccia vedi o bella così nera però mi serve pure un petto decente ma non si abbinano forse quello un po' si questo eh forse questo però non si abbina tanto questo che ho trovato questo che non avevi questo che non avevi questo che mi segnala a nuovo petto punto colpa alla testa passa indietro che è what the fuck ma che vuol di me passi in avanti che sarebbe questa mossa non l'ho capito non l'ho capito comunque siamo arrivati alla fine del video inutile farvi vedere le mimetiche tanto non abbiamo trovato niente di decente da quello che ho visto un saluto qui da power e da ciao ciao a tutti che manco si dice il suo nome io vi saluto let's go bitches ciao ciao ciao